Succede che, credo che sul campo, giustamente come si dicevano tutti, dispiace che in questo momento, sai, devono decidere un qualcosa e certamente andrebbe, sicuramente per quello che si sente, andrebbe un pochettino a danneggiare il lavoro di tante società e tanti sacrifici che hanno fatto fino ad oggi. È davvero così utopico, è davvero così un sogno pensare ad un possibile ripescaggio dei giallo-blu in Serie D, Pino? Ma guarda, diciamo che adesso è tutto un'incognita, d'altronde c'è il problema serio, credo sia quello proprio di tante squadre che avranno dei problemi, poi dopo ad affrontare l'iscrizione e tutto quello che poi ne concerne. Quindi, non lo so, noi abbiamo dato la nostra disponibilità, vi sentite, giusto? Sì, sì, sì. Sì, scusate un po', perché mi era apparso un qualcosina. Noi abbiamo dato la nostra disponibilità anche a poter accedere al punto di pescaggio in Serie D, quindi noi siamo pronti a sapere qual è il nostro programma, il Presidente lo ha praticamente esposto nel momento in cui ci fu la presentazione che in sette anni lui voleva accedere a un campionato di Serie D. Magari facendo una cosa del genere si anticipa di tre anni, però noi siamo pronti, siamo pronti a questa evenienza, magari sapete bene che l'ISCIA è una società abbastanza sana e quindi ha tutte le carte regole per poter accedere magari anche in Serie D. È un'idea che in questo momento e nel momento in cui era tutto fermo l'abbiamo messo in considerazione, in seria considerazione. Abbiamo dato la nostra disponibilità, magari ci fossero dei ripestaggi, magari avessero bisogno di squadre per poter fare i gironi anche di Serie D e noi siamo a disposizione come società. Abbiamo visto i danni che ha lasciato il coronavirus, non solo a livello fisico, a livello di vittime, ma credo anche e soprattutto a livello di aziende che sono sparite, aziende che stanno per saltare, quindi ci sono dei problemi veramente grossi. Per quanto riguarda il calcio bisogna praticamente ridimensionare un po' tutto e soprattutto lanciare in questo momento chi ha dei giovani bravi, chi è bravo poi, chi ha il coraggio soprattutto perché in questo caso bisogna avere anche coraggio, di lanciare i propri ragazzi. Questo è il nostro obiettivo, il nostro obiettivo è quello di far giocare più ragazzi possibili del nostro settore giovanile, di Ischia, voi sapete benissimo qual è il nostro obiettivo, è di far giocare tutti i solani nella serie dove noi andremo il prossimo anno, spero l'eccellenza, magari c'è quell'1% di possibilità di andare in Serie D, ma noi lo faremo e lo affronteremo sempre con i nostri ragazzi, non è che siamo lì. Abbiamo già le idee abbastanza chiare, anche per il prossimo campionato, si diceva prima, noi già ci siamo organizzati, la settimana prossima avremo un colloquio con il Presidente e con il Minister Monti per organizzare innanzitutto quando ci danno la conferma dell'eccellenza e partiamo su quello. Abbiamo già le idee chiare, abbiamo già individuato magari qualche pedina da poter rafforzare la nostra squadra e quindi già abbiamo le idee chiare per quanto riguarda il proseguo dell'attività.